4 novembre La festa dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate è stata celebrata alla villa comunale di Frosinone. Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio. La cerimonia, organizzata dal 72esimo storno dell'aeronautica militare, quest'anno ha celebrato anche l'importante ricorrenza del centenario del milite ignoto. Il 4 novembre, giorno dell'unità d'Italia, ha rafforzato questo sentimento che nel tempo perdurerà e grazie allo sforzo di tutti sarà sempre più costante e presente sul territorio. È un momento di unione e di ricordo, triste e felice. Io come neo comandante del 72esimo storno sono onorato di aver potuto, come comandante del presidio, organizzare la cerimonia su volontà del signor prefetto per poter riunire e dare alla cittadinanza anche l'aspetto esteriore di questa unità che noi già sentiamo molto forte.